Gossip Itavip, se lo sussurra, lo svegliamo. Con sincerità e apertura, Yasmin Carrisi, figlia di Albano e Loredana Lecciso, si è confidata con il Corriere della Sera riguardo alla sua infanzia. Crescere con due genitori costantemente sotto i riflettori e sempre al centro del gossip non è stato affatto semplice, come ha spiegato la stessa Yasmin, la protagonista diretta di questa realtà mediatica. Nonostante abbia deciso di intraprendere la strada musicale del padre, diventando cantante, Yasmin ha rivelato che i suoi primi anni sono stati segnati dalla cronaca rosa, un aspetto che le ha causato notevoli turbamenti. La giovane ha confessato di non aver vissuto con facilità la situazione, trovando strani eccessi nei titoloni dei rotocalchi e nelle notizie televisive. Ha dichiarato, non l'ho vissuta benissimo la situazione. Vedevo i titoli di giornale, le copertine o le notizie in tv a volte esagerate. Mi faceva strano che tutti sapessero o presumessero che cosa accadesse in casa. È sempre stato così fin da quando ero piccola, poi ci fai l'abitudine. Nonostante il passare degli anni, Yasmin ha sviluppato una corazza nei confronti del gossip, le voci su Albano e Loredana non la scuotono più come un tempo. Infine, ha riflettuto sulla riservatezza dei genitori, esprimendo il desiderio che certe cose non fossero trapelate. Ha commentato, se dovevano essere più riservati? Avrei preferito che non circolasse nulla. Mi ha sicuramente formata, mettiamola così, ma da figlia non è bello vedere certe cose. Le sue parole portano un peso specifico significativo per Albano e Loredana Lecciso.